Oggi si sarebbe dovuto tenere nel comune di Laccamino una riunione con i tassisti convocata dal sindaco Giacomo Pascale per organizzare una rete per accompagnare i ragazzi a scuola però questa riunione è andata a voto. Carmine Monti. Ma in realtà già ascoltando i tassisti era preannunciato che non ci andasse nessuno perché in aperta polemica per quanto è successo quest'estate con gli NCC e con il dispositivo del traffico soprattutto con i bulmini e le macchine private degli alberghi. Comunque ritengo un'iniziativa un po' avventata, forse era meglio farla di concerto con il sindaco di Casa Miccelo perché è bene parlare del disagio scolastico per entrambe le comunità e naturalmente richiedere un aiuto al trasporto pubblico e alla regione con l'Eav che deve secondo me assolutamente istituire delle corse dedicate per quanto riguarda i doppi turni soprattutto per le scuole che si trovano a Forio che sono quelle che maggiormente hanno dato disponibilità per i ragazzi di l'HM. Giovanni Desiano, un commento su questa riunione è andata a voto? Come ha detto Carmine era abbastanza preventivato che i tassisti non rispondessero all'appello del sindaco perché purtroppo sono una categoria volente o nolente che è stata al centro di tante polemiche dalle concessioni NCC date, dalla procura che sta indagando dai numeri di telefono che quest'estate non avevano come essere contattati a cui noi avevamo provveduto a far dare un numero di telefono l'iniziativa per quanto può essere lodevole secondo me si scontra poi con la realtà di fatto uno che la categoria poi perché dovrebbe farlo gratuitamente qua non si parla nemmeno di dargli un rimborso per la benzina e quindi per quanto dovrebbero fare un'opera di volontariato che secondo me resta difficile nelle condizioni attuali